7 antinfiammatori naturali da conoscere. Sebbene le infiammazioni possano avere molte origini, per combatterle, oltre agli antinfiammatori chimici, possiamo ricorrere ad alcuni ingredienti naturali che ci aiuteranno a evitare complicazioni Oggi vi presentiamo alcuni antinfiammatori naturali. Gonfiore e dolore. Il processo infiammatorio è composto da fenomeni molecolari, vascolari e cellulari che il corpo produce per difendersi dalle aggressioni che riceve. Perché il sistema possa funzionare, richiede la partecipazione di, sistema nervoso, per mezzo di neurotrasmettitori. Sistema immunitario con le citochine. Sistema endocrino, che è responsabile degli ormoni. Tuttavia, ci sono alcuni fattori che modificano la reazione in ciascun organismo. Cause basso contenuto di nutrienti. Le persone che non assumono abbastanza nutrienti tendono ad avere infiammazioni più gravi. Problemi circolatori. Un cattivo stato cardiovascolare aumenta il danno nei tessuti. Stato ormonale. Il paziente che secerne quantità esagerate di ormoni presenterà maggiori complicazioni in caso di infiammazione. Immunodeficienza. Malattie come l'anemia impediscono alle cellule e ai tessuti di rigenerarsi rapidamente. La verità è che nessuno è esente dalle infiammazioni. Se lo analizziamo, è il sintomo di una grande percentuale di malattie come l'asma, il diabete o l'artrite. Pertanto, è molto importante conoscere i prodotti antinfiammatori naturali e tenersi alla larga dalle pasticche. Ci sono piante che hanno lo stesso effetto e non sono dannose per la salute. Volete conoscerle? Prestate attenzione al seguente elenco. Antinfiammatori naturali 1. Semi di lino I semi di lino contengono una grande quantità di sostanze nutritive, antiossidanti e acidi grassi omega 3. È uno dei rimedi più utilizzati per ridurre il dolore articolare e migliorare la mobilità. Grazie al loro contributo di antiossidanti, prevengono l'invecchiamento. Inoltre, favoriscono l'assorbimento delle vitamine e bilanciano la quantità di ormoni. In più, contengono fibre, che hanno un effetto diuretico per eliminare le tossine, regolare il transito intestinale e ridurre la ritenzione idrica. 2. Olio di cocco L'olio di cocco contiene acido laurico che ha proprietà antinfiammatorie. Regola anche i livelli di colesterolo e la pressione sanguigna. Favorisce l'assorbimento di nutrienti, vitamine, minerali e amminoacidi nel corpo. Quando viene ingerito si forma un enzima chiamato monolaurina che ha la capacità di uccidere batteri, funghi e virus. Allo stesso modo, può essere applicato direttamente sulla pelle per ridurre il gonfiore. 3. Mirtilli Si dice che per capire quanto è nutriente un frutto, bisogna valutarne la pigmentazione, più è intenso, migliori sono i risultati. Il mirtillo contiene sostanze antibatteriche e soprattutto quercetina, che, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie contribuisce al trattamento delle malattie cardiovascolari, dei problemi di sovrappeso e persino del cancro. 4. Salmone Il salmone è un lusso da regalare alla propria salute. Contiene proteine, vitamine B12 e D, minerali e acidi grassi, omega 3 e 6. Questi ultimi sono degli ottimi antidolorifici e antinfiammatori naturali. Si consiglia di consumarlo due volte alla settimana per prevenire malattie degenerative e cardiovascolari. 67 grammi al giorno sono più che sufficienti. 5. Sedano Una delle verdure che non può mancare nella propria dieta. Contiene vitamine A, B1, B2, B6, B9, C ed E, ma anche minerali come sodio, zolfo, silicio, fibra, ecc. Risalta per le sue proprietà, sedative antiossidanti diuretiche antibatteriche analgesiche cardioprotettive lassative tutto ciò aiuta a mantenere stabili i livelli di colesterolo, ridurre le possibilità di infarti e migliorare la pressione sanguigna. In generale, purifica il corpo, eliminando i liquidi in eccesso e riducendo il dolore articolare. 6. Funghi sci-tache I funghi sci-tache contengono minerali, vitamine, macronutrienti e amminoacidi essenziali, forniscono una grande quantità di fibra che consente il corretto funzionamento della flora intestinale. Presentano una grande percentuale di enzimi che li rendono un buon antiossidante. Contengono vitamina D, magnesio, zinco, selenio e ferro. Tra i loro composti troviamo lentinanni beta-glucano, che aiutano a combattere lo sviluppo di tumori. 7. Avocado Il sbocado contiene sostanze fenoliche che assorbono il colesterolo nel sangue. Ideale anche per persone con problemi articolari o malattie reumatiche. Accelera il metabolismo, riduce l'ipertensione arteriosa e i lipidi che si accumulano nel sangue. Tutto ciò previene gli attacchi di cuore. Raccomandazioni generali Riducete la quantità di zuccheri nella dieta. Fate attività fisica con frequenza. Aumentate l'assunzione di liquidi se si tratta di una lesione cutanea. Mantenete pulita la zona interessata. Dormite almeno per 8 ore al giorno. Evitate situazioni stressanti. Ricordate che è un cambiamento nelle emozioni a effetti fisici. Ricordate che è un cambiamento nel sangue.